Ma buongiorno! Chissà come sarà il tempo oggi. E questi fiori? Appassiscono a vista d'occhio. Bah! Allora, vediamo un po' cosa dice lo specchio stamattina. Mmm, niente male. Ma in realtà mi prendo solo in giro. Guarda che roba! Allora, basta! Da oggi non mangio più. Niente più dolci, pasta e pane, elimina! Dovrò dire anche addio alla pizza, alla focaccia, alle patatine. No, basta! Devo farcela! Ora sì che sono bella! Tu non sei bella, sei solo consumata. Mamma mia, va che meglio! Adesso mi sento decisamente meglio. Vediamo cosa posso fare oggi. E così vado a comprare dei fiori fresco.